Ah e anche oggi è arrivato il corriere Si vede? Ciao a tutti ragazzi bentornati nuovamente sul mio canale Oggi come state sicuramente notando siamo tornati con un nuovo episodio unboxing domenicale Nel quale andiamo ad aprire diversi pacchetti che mi sono arrivati in questi giorni Perché si comunque i corrieri non consegnano tutte le cose che volete Infatti raggruppano tutte le consegne in un'unica Motivo per il quale mi ritrovo quest'oggi con diversi pacchettini che mi sono arrivati Che ovviamente andiamo ad aprire insieme e a vedere che cosa c'è al loro interno Perché all'interno in teoria si dovrebbero celare prodotti davvero molto molto interessanti Prima però di partire come sempre vi invito mi raccomando a lasciare un bel pollicione in su Esattamente qui sotto così come una bella iscrizione a questo canale Ovviamente cliccate anche la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati E non perdersi nessuna magica notizia su questo canale E poi come sempre vi invito a seguire tutti i link che trovate qui sotto in descrizione Che oltre che appunto portarvi i prodotti che andiamo a vedere quest'oggi Mi porterà assieme social network sia anche per un'applicazione che si chiama Curve Praticamente ve ne ho parlato in tutta la settimana però è davvero un servizio molto molto interessante Che ovviamente vi permette di guadagnarvi anche ben 6 euro di benvenuto tramite il link che trovate esattamente qui sotto Ed è davvero una cosa molto interessante in quanto è una carta fisica che vi arriva a casa E vi permette appunto di guadagnare del cashback ovvero dei soldi di ritorno Dal momento in cui acquisterete dei prodotti Da siti come per esempio Amazon piuttosto che Ebay piuttosto che tantissimi altri posti Detto questo comunque ho anche parlato fin troppo Dunque iniziamo con l'apertura di questi pacchettozzi che sono davvero molto molto interessanti Come credo anche abbiate letto dal titolo Probabilmente questo credo sia l'ultimo unboxing almeno di questo periodo Perché purtroppo i corrieri cominciano a scarseggiare un pochettino Però è anche abbastanza normale tutto ciò Data appunto la situazione attuale La cosa positiva di tutto ciò è che quantomeno i corrieri lavorano veramente un sacco Comunque non ci sono tantissime spedizioni E dunque i prodotti arrivano proprio belli freschi subitissimi Partirei dunque allora da questo che è quello un po' più piccolo rispetto a questi che andiamo a vedere quest'oggi E al suo interno troviamo esattamente questo qui Questo magico microfono lavalier che ovviamente mi permetterà Porco can Che mi permetterà appunto di registrare i video con appunto un microfonino un po' più tranquillo Un po' più piccolino che possa appiccicare la maglietta senza mettermi sto coso gigantesco qua davanti Che sì per quanto comodo e ottimo sia a livello di audio diciamo che è abbastanza ingombrante Tralasciando appunto questo andiamo brevemente ad aprire la confezione a vedere che cosa si c'è dal suo interno Sono onesto questo prodotto l'ho acquistato a veramente pochissimo e dunque mi sembrava abbastanza interessante E all'interno della confezione troviamo ovviamente questo piccolo adattatore che ci permette appunto di collegarlo al pc E dunque ai vari dispositivi E poi sempre all'interno troviamo questa simpaticissima bustina contenente i vari filtri E poi altri adattatori che ovviamente ci servono per collegare il microfono a tantissimi prodotti Quei telefoni, videocamere, computer e chi ne ha più ne metta Troviamo anche varie cose, vari fogliettini che non ci interessano però il prodotto in sé E' esattamente questo che non riesco a sfilare Ed eccolo qui in tutto il suo magico splendore Anzi in realtà più in questa sorta di filo incredibilmente lungo Che spero sia abbastanza comodo però comunque esteticamente non si presenta affatto male Poi ovviamente questo microfono va appiccicato esattamente così come magari sto facendo Magari non proprio così però insomma l'idea si è capita I materiali sembrano essere fatti abbastanza bene però comunque lo avrò modo di testare più avanti Per il momento lo lasciamo lì da parte Perché qui abbiamo diversi altri pacchettini da aprire Direi a questo punto di passare magari a questo qua Che è quello più interessante forse di tutto l'Ambaradam Infatti all'interno di questa confezione si cela esattamente quest'altro pacchetto Abbastanza inquietante perché effettivamente è abbastanza inquietante Però tipico appunto di Cina quindi Ne ho ovviamente ad aprire questa scatola completamente sigillata da scotch arancione Perché in teoria al suo interno si dovrebbe trovare un prodotto che mi è arrivato da un'azienda Che produce cuffiette true wireless Infatti si eccole qui nel loro magico splendore in questo cello fanno incredibile E si tratta appunto di queste qua Ah voi non vedete niente perché giustamente è tutto bianchissimo E all'interno della scatola troviamo non uno ma ben due scatolette bianche Poi vabbè si un fogliettino che naturalmente non ci interessa in modo particolare Il fogliettino che cosa contiene No beh sono ringraziamenti ma buttiamo tutto via Perché è proprio all'interno di questo pluriball che si c'erano E già si tratta proprio di un clone di airpods Esattamente queste in teoria dovrebbero essere le tvs i500 Comunque credo si chiamino così E questa azienda qui me le ha mandate gentilmente Per appunto portarci una video recensione che uscirà prestissimo sul canale Quindi mi raccomando State belli sintonizzati E il prodotto in questione è esattamente questo Sarebbe la riproduzione delle airpods 2 di apple E sono davvero molto curioso di testarle insieme a voi Ma prima momento a smrr E dunque eccole qui in tutto il loro magico splendore Questo clone di airpods 2 che sono davvero curiosissimo di testare Infatti davvero a brevissimo uscirà la recensione completa di sia questo prodotto E anche di questo che adesso andiamo a vedere Però prima volevo un attimino vedere che cosa c'è in confezione Oltre ovviamente le varie cose, varie coperture Troviamo questo cavo lightning classicissimo Anche se non credo mai sia originale Certo stiamo parlando sempre di un clone E poi ovviamente anche un manualetto delle istruzioni Che ci spiega un pochetto come si utilizzano, come si collegano E altre cose di questo tipo Ma mettiamole da parte perché ovviamente ci arriverà un video tutto quanto dedicato Passando invece a quest'altro paio di cuffiette Si tratta delle airpods pro Infatti sono il contrario perché ovviamente sono un pro io E comunque queste si forse sono un po' più carine Ma ovviamente sono curiosissimo di andare a vederle Packaging che ovviamente è sempre lo stesso E dentro la confezione si trovano appunto anche le airpods pro Che sono esattamente queste qui Sono prodotti che davvero sono curiosissimo di testare Ma ovviamente a tempo debito arriverà tutto quanto Mettiamo anche queste da parte Vediamo che cosa c'è in confezione Ovviamente, beh, che ve lo dico a fare? Cartone E poi troviamo questo cavo lightning USB-C Attenzione E naturalmente anche quest'altra sorta di gommini di ricambio Per le cuffiette Insomma, un po' quello che troviamo all'interno della confezione di Apple Mi hanno suscitato tanta curiosità nel testarle Infatti, beh, proprio brevissimo uscirà la recensione completa Mettiamole comunque da parte perché abbiamo diversi altri prodotti da spacchettare Tra cui Direi di aprire esattamente questo E poi ci rimane solo più lui E comunque, in teoria, al suo interno dovrei già sapere che cosa si cela Ovviamente il pacchetto che arriva da Amazon E oltre all'incredibile carta che veramente è assurda Proviamo esattamente questo altro pacchettino Contenente una lampada Fantastico In particolare questa lampada qui è uguale, identica a quella che trovate là dietro Che attualmente è pure spenta Però comunque non è nulla di particolare Dunque la mettiamo da parte In quanto ci manca solo più un pacchettino In cui al suo interno c'è davvero un qualcosa di top Questo in teoria dovrebbe arrivare sempre da un'azienda Infatti mi hanno contattato perlomeno No, in realtà l'ho contattata io Chiedendogli appunto di poter recensire un loro prodotto E loro, gentilmente, mi hanno offerto questo che adesso andiamo a vedere Questo pacchetto ne arriva direttamente dalla Germania E al suo interno, in teoria, si dovrebbe celare Se non mi ricordo male Oltre all'ingredibile carta Che questa veramente non manca mai Troviamo i documenti e le fatture E' proprio questo che abbiamo ordinato No, ovviamente sto scherzando Perché al suo interno si trova un'altra scatola Che questa volta contiene esattamente lui Si, si tratta di un dissipatore Per chi ovviamente non conoscesse questo genere di cose Che andrò prestissimo a montare sul mio pc Magari facendoci un video dedicato Questo qui mi ha davvero un botto incuriosito Infatti devo assolutissimamente aprirlo Mi avevano chiesto quale effettivamente volessi recensire Tra tutti i vari colori Io ho detto il bianco perché vanno a riprendere un po' il colore delle mie RAM Però effettivamente non credevo tutto questo bianco incredibile Comunque all'interno della confezione troviamo anche questa sorta di breve kit Per appunto il montaggio E poi troviamo, se non lui, il dissipatore In tutto il suo magico splendore Davvero è un botto figo E' super super bianco Cioè, forse anche più bianco del previsto Però comunque sembra essere davvero molto molto interessante Anche questo sono curiosissimo di andarlo a testare sul campo E infatti sì, usciranno un sacco di video in questi periodi Centrati sì, assolutamente sui cloni delle Airpods Ma anche su qualche gadget dei componenti del PC Visto che abbiamo questo dissipatore da testare E dunque nulla Quindi, io direi che per questo video è tutto Spero che ovviamente vi sia piaciuto Non so quanto effettivamente sia durato Spero non tantissimo Ringrazio ovviamente le aziende che mi hanno invidiato questi prodotti Comunque tutti i link li trovate esattamente qui sotto in descrizione E quindi nulla Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Nel caso fosse stato così Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su Commentate, iscrivetevi al canale E noi come sempre ci becchiamo a un prossimo video Io vi saluto Ciao a tutti Adesso mi tocca mettere tutto quanto a posto Che ho fatto un disastro Ecco, questo è lo spirito bello degli unboxing Spacchettare, manca riordinare No, non è vero scherzo Il bello è solamente spacchettare No, non è vero scherzo No, non è vero scherzo